Servizi funebri cavesi offre un servizio di onoranze funebri completo e su misura per ogni tipo di esigenza. Siamo a Cava dei Tirreni in corso Mazzini numero 224. L'area dell'ex velodromo di via Idolongo è ufficialmente in vendita. Dopo l'inserimento nell'elenco dei beni da alienare, nei giorni scorsi da Palazzo di Città è stato pubblicato l'avviso di asta pubblica per la vendita del complesso sportivo denominato Parco dello Sport per Tutti. L'area, situata di fronte al comando della Polizia Municipale, al confine tra le frazioni di Sant'Arcangelo e Passiano, ha una superficie complessiva di 15.533 metri quadri, all'interno del quale insistono un blocco spogliatoi, una gradinata, un locale in pianti tecnologici, tre campi polivalenti ed un'area scoperta, oggi in parte ricoperta da vegetazione, per una superficie complessiva di 11.915 metri quadri. Il complesso, come previsto dal piano urbanistico comunale vigente, è un'area a vocazione sportiva che offre inoltre interessanti opportunità per la realizzazione di superfici coperte e spazi per attività commerciali. L'unico vincolo è rappresentato dalla destinazione, che deve rimanere quella sportiva, ma l'area bensì presta alla realizzazione di un articolato complesso sportivo, con servizi, spazi riservati ai bambini, attività commerciali e attività di intrattenimento. L'importo a base d'asta è stato fissato in 1.700.000 euro. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 28 novembre. L'asta pubblica, invece, si terrà il giorno seguente. Dopo il fallimento della procedura di assegnazione in concessione in gestione dell'area, a causa di una serie di inadempienze del soggetto che in un primo momento era risultato assegnatario della concessione, l'amministrazione comunale ha deciso di mettere in vendita l'area, sulla quale, negli ultimi decenni, le amministrazioni che si sono succedute hanno speso oltre un milione di euro, con interventi che sono puntualmente finiti nel milino dei vandali che hanno devastato praticamente tutto.